In studio Giada Giacquinta. Buonasera dalla redazione, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di incendi perché la Sicilia vanta un triste primato per il 2021 in quanto è stata definita la regione con la maggiore superficie coperta dal fuoco, 78 mila ettari. A lanciare l'allarme il WWF all'indomani dei numerosi roghi registratisi nel Palermitano e a Pantelleria lancia l'allarme in particolare in un report dal titolo spegnere oggi gli incendi di domani sulla gestione dell'emergenza e la previsione del rischio, sottolineando come quest'anno le ondate di calore anticipate e una straordinaria siccità invernale abbiano reso la vegetazione più secca e quindi maggiormente infiammabile, creando una condizione perfetta per la combustione. La Sicilia è una delle regioni italiane più colpite dagli effetti del cambiamento climatico e a rischio desertificazione. Cresce la preoccupazione dopo gli incendi nel Palermitano e a Pantelleria, bruciati vigneti e aree di macchia mediterranea. Nel 2021 vanta il triste primato di regione con la maggiore superficie coperta dal fuoco, 78 mila ettari, soprattutto terreni coltivati e pascolati. Nel piano regionale antincendio boschivo 2020, redatto dal comando del Corpo Forestale della regione siciliana, una profondita indagine condotta nel periodo 2010-2020 evidenzia che oltre il 77% degli incendi sono dolosi. WWF, che in un recente report lancia un invito a spegnere oggi gli incendi di domani, dalla gestione dell'emergenza a gestione e prevenzione del rischio, sottolinea come le cause degli incendi sono molteplici e quest'anno, non date di calore anticipate e una straordinaria siccità invernale hanno reso la vegetazione più secca e quindi maggiormente infiammabile, creando la condizione perfetta per la combustione di notevoli superfici di terreni. WWF richiama l'attenzione sugli interessi di vario genere dietro questi incendi dolosi per ritorsioni o intimidazioni, ma anche l'uso sconsiderato del fuoco per il recupero di terreni pascolabili, e non è da sottovalutare anche il problema dello smaltimento dei rifiuti e delle discariche abusive, per creare posti di lavoro nelle attività di avvistamento, di estinzione, nelle attività successive di ricostituzione, noto come industria del fuoco e industria degli incendi. La Regione Sicilia ha focalizzato i suoi interventi verso l'emergenza, quindi WWF propone azioni di riforestazione e che arrestino la scomparsa dei boschi, servono a solida ed efficiente struttura di gestione e controllo delle aree forestali e vegetative, altrimenti un'entità così vulnerabile come il bosco sarà sempre facile vittima di pratiche criminali e di comportamenti colposi lesivi, con un'assunzione di responsabilità da parte della politica siciliana. Questi giorni in Sicilia sono preoccupanti le ondate di calore. Per quanto riguarda il rischio incendi, massima allerta oggi nelle province di Egrigento e Caltanissetta, livello di preallerta sul resto dell'isola. Secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale, oggi si è registrata una sensibile diminuzione del rischio ondate di calore, un trend a quanto pare ancora in discesa per domani. Ma ieri è stata la giornata peggiore per quanto riguarda il rischio incendi, come ha dichiarato il dirigente della forestale della regione siciliana. La nostra isola sarà interessata da un lieve calo delle temperature, quanto riportato nell'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale, che parla di una sensibile diminuzione del rischio di ondate di calore, che scende a livello 1 allerta di colore giallo, con una temperatura massima percepita che si attesta sui 35 gradi, ad eccezione di Catania e Messina con rispettivamente 38 e 37 gradi. Trend ancora in discesa per domani, quando la temperatura massima percepita dovrebbe attestarsi sui 33 e 34 gradi. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per oggi massima allerta nelle province di Agrigento e Caltanissetta, mentre pericolosità media con livello di preallerta color arancione per il resto della Sicilia. Ieri la giornata peggiore per quanto riguarda il rischio incendi, ad alimentare i roghi, le temperature roventi, con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi e un forte vento di scirocco. Ogni stagione antincegno si caratterizza per le giornate critiche che verranno ricordate nel tempo e il 18 agosto del 2022 verrà sicuramente ricordato, ha dichiarato il dirigente della forestale della regione siciliana Giovanni Salerno, che parla di un record di focolai. Ieri abbiamo avuto 130 incendi in tutta l'isola, attraversata l'isola sia per quanto riguarda la Sicilia occidentale che quella orientale e soprattutto nel Palermitano, dove si sono verificati ben 15 focolai. Abbiamo avuto un'area percorsa dal fuoco per circa 346 ettari, di cui 290 ettari di aria di superficie di vegetazione, la rimanente parte è circa 50 ettari di aria buscata. Desidero ringraziare operai, personale indivisa, sale operative, direttori di operazioni di spegnimento del corpo forestale per la grande professionalità e lo spirito di abnegazione che ancora una volta li ha contraddistinti, afferma il dirigente. Ringrazio anche gli uomini e le donne, che a vario titolo non si sono risparmiati in una giornata dura e terribile. Il loro contributo è stato determinante per scongiurare il peggio. E come detto, notte di fiamme di paura nel Palermitano, Canadair in azione fino a questa mattina per spegnere gli ultimi focolai a Palermo e provincia. In particolare un incendio è divampato nelle colline che circondano il quartiere di Borgo Nuovo e nella zona della discarica di Bello Lampo. Roghi alimentati dal vento di scirocco e favoriti dalle temperature roventi. diverse le abitazioni evacuate, anziani soccorsi dal 118 e in fuga anche animali selvatici. Hanno sorvolato le aree ancora fumanti fino a stamattina e Canadair in azione a Palermo e nel territorio circostante per spegnere alcuni focolai rimasti dopo i vasti incendi che ieri hanno colpito tutta la provincia. Decine gli interventi con squadre da terra, dei vigili del fuoco e cinque Canadair. Tra le zone colpite, comuni di Carini, Torretta, Bolognetta, Partinico, Monreale, Belmonte, Mezzagno, San Giuseppe e Iato. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche alcune squadre di Enne e Agrigento, incendi che nell'area della discarica di Bello Lampo a Palermo hanno visto in fiamme spazzature e teloni di copertura. Intervenuti i vigili del fuoco di Palermo con il supporto della protezione civile regionale e del personale RAP e proprio la RAP ha rassicurato sulla funzionalità dell'impianto. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che si è recato nei luoghi interessati dei roghi poco prima di mezzanotte ha diramato una ruota rinnovando la raccomandazione agli abitanti delle zone vicine, Borgo Nuovo e Bocca di Falco alla massima prudenza limitando gli spostamenti e mantenendo chiuse le finestre. Paura anche per gli abitanti di Poggio Ridente dove sulla lalba i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme sulla montagna i roghi sono divampati in zone vicine a diverse abitazioni alcuni residenti hanno abbandonato le loro case per precauzione c'è chi ha provato a spegnere i primi roghi con dei sacchi anziani soccorsi dal 118 in fuga anche alcuni animali selvatici ad alimentare i roghi le temperature roventi con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi e il forte vento di Scirocco. E sugli incendi nel Palermitano è stato convocato oggi un vertice in prefettura un vertice straordinario sull'emergenza la presenza dell'amministrazione comunale la polizia municipale la RAP la protezione civile comunale regionale i vigili del fuoco e altre forze dell'ordine dall'amministrazione palermitana rendono noto che la raccolta dei rifiuti continuerà normalmente non ha subito rallentamenti. Saranno celebrati domani i funerali nella chiesa del Carmine Ascicli alle 10 di Giovanni Mariotta il 73enne è rimasto vittima la sera di mercoledì del crollo della sua villetta incontrata a Fiumara nei primi accertamenti il crollo è stato causato dalla perdita di gas che ha innescato la deflagrazione della bombola il corpo del 73enne è stato rinvenuto dopo qualche ora nel vano cucina Giovanni Mariotta era un ex dirigente dell'agenzia delle entrate in pensione viveva da sola Donna Lucata ma si ricava a Scicli quotidianamente per curare i campi e accudire i suoi gatti e invece torniamo a parlare adesso dell'omicidio di Letoianni Massimo Canfora è stato accoltellato con un coltello da cucina in più punti del corpo è stato rinvenuto nudo in una pozza di sangue e a lanciare l'allarme il vicinato dopo aver sentito le urla dell'uomo è stato fermato per l'omicidio un diciottenne e secondo i testimoni avrebbe lasciato lo stabile poco prima dell'arrivo dei soccorsi fermo di indiziato di delitto per un diciottenne di origine tunisina ma residente a Letoianni per l'omicidio di Massimo Canfora il 56enne trovato nudo in una pozza di sangue nel proprio appartamento ieri mattina nella centralissima via Nensi nel comune di Letoianni le indagini dei carabinieri della compagnia di Taormina hanno ricostruito le ultime fasi di vita dell'uomo operatore ecologico della città conosciuto da tutti persona mite e grande lavoratore viene descritto così dai cittadini di Letoianni dalla prima analisi effettuata nel luogo del delitto i carabinieri hanno potuto appurare che Massimo Canfora avrebbe proprio aperto a colui che poi l'ha ucciso con diverse coltellate sul corpo dalle indagini e dall'ascolto dei testimoni la concentrazione è stata posta su un 18enne ricerche terminate proprio dopo aver trovato il 18enne che si è presentato anche con una ferita d'arma da taglio sulla mano ancora sanguinante poi dalla perquisizione domiciliare sono stati trovati anche degli indumenti anche questi sporchi di sangue l'arma del delitto sarebbe un coltello da cucina con una lama di 10 centimetri era ancora intriso di sangue ed era a fianco al cadavere dell'uomo il ragazzo è stato rinchiuso nel carcere di Messina dopo essere stato raggiunto dal provvedimento di fermo continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti accertare se ci siano altri responsabili e soprattutto capire il movente e adesso la politica sono stati presentati i nomi per le politiche del movimento 5 stelle a guidare per il senato saranno Barbara Floridia e l'ex procuratore di Palermo alla camera Conte ci sono poi anche i ragusani Vanessa Ferreri Antonio Tringali ma capolista sarà Scerra i dettagli Giuseppe Conte sarà capolista alla camera non solo in Sicilia ma anche in Puglia Campania e in Lombardia in quest'ultima regione in due collegi l'ex procuratore generale di Palermo invece Roberto Scarpinato e l'attuale sottosegretario di Stato all'istruzione e già candidata alle primarie giallorosse in Sicilia Barbara Floridia saranno i capolista al senato molte sorprese dalle parlamentarie anche per l'alternanza di genere nel collegio Sicilia 1 per la camera Valentina Dorso in seconda posizione dietro il deputato Davide Aiello fuori il deputato invece palermitano Adriano Varrica primo dei candidati supplenti un altro deputato uscente Aldo Penna ben lontano dai primi quattro posti alla camera Sicilia 2 capolista e l'ex sindaco di Porta Empedocle Ida Carmina dietro a Scarpinato al senato nel collegio Sicilia 1 l'attuale deputata regionale Chetti Damante e l'uscente Pietro Lorefice nonostante abbia ottenuto il record assoluto di voti 1173 rimane fuori Steni di Piazza penalizzato dalla candidatura di Scarpinato e dalla regola dell'alternanza uomo-donna per lui 1171 voti alle parlamentarie nel collegio Sicilia 2 alle spalle di Barbara Floridia il senatore di origine sciclitana Giuseppe Pisani tra i nomi dei ragusani c'è anche quello di Vanessa Ferreri e come supplente Antonio Tringali E in Sicilia la campagna elettorale entra nel vivo ieri il candidato Francesco Stornello ha presentato gli obiettivi che lui insieme al PD hanno intenzione di conseguire lo ha fatto in occasione dell'inaugurazione del comitato elettorale una sala gremita di gente ha accolto il candidato all'assemblea regionale siciliana Francesco Stornello avvocato modicano che ha parlato anche della sua adozione del format Town Hall Meeting ovvero incontri in giro per le località di mare per i centri storici in cui si riceveranno domande direttamente dal pubblico per un ascolto e un confronto diretto e non mediato da convegni o presentazioni retoriche organizzate che non prevedono il coinvolgimento attivo di chi ascolta un format ha detto l'avvocato Stornello candidato all'assemblea regionale siciliana per il partito democratico che mira a riportare il senso di comunità un senso civico un senso di condivisione oramai distante dalla politica la politica deve tornare ad occuparsi della comunità e non dei singoli territori ha sottolineato l'avvocato modicano che ha rilanciato anche al prossimo appuntamento quello di domenica 21 agosto alle 18.30 presso uno chalet di Marina di Modica poi appuntamenti sono previsti anche a Scicli Ispica e Pozzallo Stornello ha parlato di tutti gli obiettivi da conseguire e dell'importanza di portare il territorio e la comunità all'Assemblea regionale siciliana dobbiamo ritornare a trovare il senso ed il progetto del futuro che ci consente di poter costruire una casa nuova e bella per le prossime generazioni e questa è la sfida e questo è l'impegno che con entusiasmo con passione con serietà e perché no con un sorriso ci accingiamo oggi ad iniziare consapevoli della difficoltà ma altrettanto consapevoli che questa comunità merita il meglio che ciascuno di noi può dare per il futuro ed è stato finanziato l'intervento di manutenzione straordinaria della SP46 l'ISP Capozzallo per un importo di 19,4 milioni di euro il Libero Consorzio Comunale di Ragusa procederà a raccordarsi con il Dipartimento regionale alle infrastrutture per ogni adempimento successivo di natura tecnica al fine di consentirne la realizzazione a renderlo noto il commissario straordinario Salvatore Piazza che spiega come sia stata accolta la richiesta avanzata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla Regione aggiunge questo importante finanziamento ci consenterà di completare l'opera avviata per il primo lotto grazie ai fondi Ex-Insicem la progettazione portata avanti dagli uffici tecnici al vaglio della Regione per i necessari pareri di carattere ambientale e urbanistico una volta esitati dalle apposite commissioni l'entipotrà procedere con l'itere e avviare i bandi ha detto il commissario Piazza bollette raddoppiate se non triplicate rispetto all'anno scorso solo nel mese di luglio oltre 18 mila euro per una ristoratrice Federica Muriana presidente territoriale di CNA Ristorazione Ragusa tanti gli operatori del settore ristorativo che fanno fatica ad andare avanti a portare avanti la propria attività perché non riescono a sostenere più le spese oltre 18 mila euro di bolletta relativa al pagamento dell'energia elettrica è solo una delle tante recapitate a ristoranti bar e imprese turistiche che stentano a portare avanti l'attività per le spese insostenibili a parlare Federica Muriana ristoratrice presidente territoriale di CNA Ristorazione Ragusa alla quale il prezzo della bolletta rispetto a luglio dell'anno scorso è triplicato da 5 mila si è passati a 18 mila euro relativi solo al mese di luglio e con una scadenza al 23 agosto non è possibile continuare così il caro energia sta gravando in maniera seria sugli operatori del settore e sono in molti a pensarla se continuare o chiudere l'attività come le stesse ci racconta facendosi portavoce delle lamentelle di molti sul fronte turistico quest'anno quest'anno doveva essere un anno di ripresa invece non lo è stata completamente non abbiamo aiuti e invece cosa ci recapitano delle bollette assurde io ho parlato con tanti dei miei colleghi siamo tutti nella stessa situazione è veramente assurdo andare a pagare una bolletta nel mio caso di 18 mila e 500 euro contro i 5 mila e 3 dello scorso anno con gli stessi consumi come dovrei pagarla? molte le attività economiche dice Muriane è costretta ad aumentare prezzi a svantaggio del consumatore per proporzionare questi costi dovremmo aumentare tutti i prezzi ma chi ormai potrà uscire a mangiare fuori per un piatto di pasta quando un piatto di pasta te lo vendono 20 euro per poter pagare la bolletta della luce non ci tiriamo indietro ribadisce cercando di reagire siamo pronti a raccogliere tutte queste istanze per capire in che modo si possa trovare una soluzione riteniamo che non si possa più operare così con la CNA stiamo cercando di muoverci tutto il nostro comparto in ristorazione per cercare di farci sentire perché dobbiamo avere delle risposte dobbiamo avere delle soluzioni coronavirus continua il monitoraggio dei contagi e dei ricoveri in Sicilia facciamo il punto con dati aggiornati in questo servizio sono 1794 nuovi casi di positività al covid-19 nelle ultime 24 ore in Sicilia 11.588 i tamponi processati ieri i nuovi positivi erano 2.082 il tasso di positività è sceso dello 0,5% ieri era al 16% oggi al 15,5 la Sicilia è al sesto posto per contagi le persone attualmente positive sono 99.780 con un decremento di 2.607 casi le persone guarite sono 4.383 e 18 le vittime che portano il totale dei decessi a 11.964 sul fronte ospedaliero le persone ricoverate sono 616 20 posti letto in meno occupati rispetto alle precedenti 24 ore 2 in più però in terapia intensiva per un totale di 32 posti letto occupati a Palermo i casi sono 337 a Catania 360 a Messina 295 181 a Siracusa 183 a Trapani 120 a Ragusa sempre per il dato provinciale 105 a Caltanissetta 176 ad Agrigento ad Enna 37 avrebbero rasato la testa a un ragazzo contro la sua volontà registrando il tutto con il cellulare mentre lo deridevano sull'episodio accaduto alla vigilia di Ferragosto a Scoglitti che ha per protagonisti dei minori i carabinieri di Vittoria stanno compiendo delle verifiche dopo la segnalazione del pedagogista Peppe Raffa non è stata però sporta denuncia formale sottolineano i carabinieri lo avrebbero accerchiato e poi tra risate e spintoni gli avrebbero rasato la testa a zero con un rasoio elettrico mentre veniva schernito e ripreso con lo smartphone vittima di questo episodio verificato si è a Scoglitti un minore autori del gesto suoi coetani tra i 13 e i 16 anni un episodio accaduto alla vigilia di Ferragosto ma di cui si è notizia solo dopo la denuncia sui social del pedagogista Peppe Raffa responsabile dell'ambulatorio antibullismi dell'aspe di Ragusa che l'ha segnalato ai carabinieri dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di una residente che ha raccontato di aver assistito a quanto accaduto e di aver visto il ragazzo andare via in lacrime l'episodio è verosibilmente riconducibile è un atto di bullismo ma non possiamo etichettarlo come tale prima di aver portato a termine le verifiche del caso invitano alla cautela i carabinieri di Vittoria che evidenziano come non sia stata sporta denuncia ufficiale sull'episodio e che riferiscono come occorra valutare alcuni elementi per capire perché le parti interessate non abbiano sporto denuncia e se si può circoscrivere a un gioco tra ragazzi o se si cela dell'altro ciò che è certo è che il racconto di questi episodi ha suscitato indignazione soprattutto sui social dove fioccano commenti negativi di condanna sull'accaduto con un forte richiamo a una presa di coscienza collettiva al fronte di questo dilagante fenomeno trasversale di disagio giovanile e ci fermiamo adesso per la pubblicità tra poco ben trovati in studio droga due arresti a Messina due arresti ma anche segnalazioni di assuntori oltre a ingenti sequestri di droga e questo quanto portato a termine dalla questura di Messina nello specifico per quanto riguarda la prima operazione è stato trovato in possesso di 100 grammi di sostanza stupefacente un trentenne messinese il tutto è avvenuto nel centro della città nell'ambito degli stessi servizi a seguito di una perquisizione personale veicolare a carico di una donna di Messina di 67 anni anche in questo caso in zona centro gli operatori della squadra mobile hanno rinvenuto e sequestrato 100 grammi di marijuana tutte e due le persone sono state arrestate sottoposte agli arresti domiciliari ma le operazioni si sono tenute in due momenti diversi si precisa che i procedimenti sono ancora in fase di indagine preliminare anche nell'interesse degli indagati sarà svolto un ulteriore accertamento numerosi poi sono stati i soggetti sottoposti a controllo con la segnalazione di quattro assuntori e il sequestro anche però di modici quantitativi di cocaina marijuana e anche hashish quasi 18 chili di marijuana sono stati rinvenuti all'interno di un'auto con targa maltese in attesa di imbarcarsi dal porto di Pozzallo per Malta l'auto è stata controllata dai funzionali dell'agenzia delle accise dogane monopoli in servizio presso il porto di Pozzallo e dalla guardia di finanza che ha utilizzato le unità speciali cinofile antidroga nel corso della perquisizione sono state trovate 143 buste con 17 circa chili di marijuana l'autista un maltese di 40 anni è stato arrestato e condotto in carcere a Ragusa la droga e l'auto sono state sequestrate operazione alto impatto a Palermo sequestrati in un'attività ristorativa di Mondello circa 70 chili di prodotti non tracciati oltre 18 mila euro le sanzioni amministrative combinate controlli anche in altri comuni del Palermitano complessivamente sono state identificate 96 persone 13 i controlli a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale circa 70 chili di alimenti non tracciati e ritenuti non idonei al consumo sequestrate all'interno di un'attività ristorativa è uno dei provvedimenti attuati nell'ambito dell'operazione alto impatto portata avanti dalla polizia di stato a Palermo attraverso servizi di controllo lungo le strade della borgata marinara di Mondello un'operazione condotta con la squadra mobile cinofili operatori della capitaneria di porto polizia locale ispettorato del lavoro della regione siciliana e personale dell'ASP sotto la lente di ingrandimento proprio un'attività di ristorazione dove sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa e rilevate gravissime carenze igienico-sanitarie oltre al sequestro degli alimenti durante le fasi di accertamento sono state rilevate dall'ispettorato del lavoro gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro accertata la presenza di cinque lavoratori non in regola con gli attestati riguardanti la formazione e addestramento tutti tra l'altro non ancora sottoposti alla periodica visita medica sono stati immediatamente allontanati dal luogo di lavoro le sanzioni amministrative elevate ammontano d'oltre 18.000 euro controlli anche nei comuni limitrofi di Isola delle Femmine Capace e Torretta complessivamente sono state identificate 96 persone di cui 21 con precedenti di polizia controllate 35 vetture elevate 4 sanzioni al codice della strada e un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo 13 controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e si sono conclusi a Militello in Val di Catania i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore una lunga intensa giornata raccontata in diretta su video mediterraneo da Sara Donzuso e Ruggero Sardo un lungo percorso arricchito delle nuove tappe con numerosi momenti suggestivi è stata una giornata di grande festa quella che si è vissuta ieri a Militello in Val di Catania per il Santissimo Salvatore patrono della città dopo due anni di stop a causa della pandemia c'era voglia di tornare in piazza di riassaporare tutti i momenti legati alla devozione e alla festa una lunga e intensa giornata che è stata raccontata in diretta su video mediterraneo da Sara Donzuso e Ruggero Sardo le telecamere si sono accese alle 10.15 per introdurre il solenne pontificale presieduto dal cardinale Mario Grech che nella omelia ha ricordato l'importanza della fratellanza del dialogo e dell'ascolto dell'aiuto che ci deve essere tra i popoli e tra gli individui la diretta è continuata nel pomeriggio per mostrare i momenti antecedenti a Nisciuta che è avvenuta alle 17 momento atteso dopo due anni di fermo a causa della pandemia uscita che è stata preceduta da alcuni bambini che portavano a spalla una piccola vara che riproduceva il fercolo della Salvatore tra le novità di quest'anno proprio questo momento fuochi d'artificio e in Sareddi hanno salutato il Santissimo Salvatore subito dopo l'avvio della processione sia nella Basilica inferiore che durante il giro tanti genitori che hanno portato i propri figli per ricevere la protezione con il rito della spugliata dei picciriddi un lungo percorso con tanti momenti suggestivi come quello al Monte Calvario con la traslazione dal Baiardo al carro della statua e l'intervento dei ragazzi che hanno cominciato a tirare i cordoni per continuare il giro giro che quest'anno si è arricchito di nuove tappe per raggiungere più zone di Militello Borgo più bello di Sicilia per il 2022 tante le novità per quest'anno come il canto al quartiere Ferrera che è ritornato dopo tanti anni o la possibilità di salire al campanile della Basilica possibilità che viene data fino al 25 di agosto e dopo ai gruppi che ne faranno richiesta le telecamere di video mediterraneo hanno trasmesso questi momenti così come hanno portato nelle case dei telespettatori anche la parte finale quando il Santissimo Salvatore ha fatto ritorno in piazza e poi in chiesa portato a spalla tante ore di diretta come tanti i messaggi e le mail arrivate ai nostri contatti soprattutto da coloro che vivono lontano dalla Sicilia e che hanno così accorciato le distanze grazie alle meravigliose immagini regalate dal Santissimo Salvatore di Militello in Val di Catania ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti